Ciao, sono appena andata all'aeroporto Buongiorno! Siamo a Londra, all'atel Moonlight e ci siamo appena smegliati adesso andiamo a fare colazione perché oggi sarà una giornata molto molto speciale E adesso andiamo a fare colazione Ciao Abbiamo un suo vestito Dopo le mie mille e mille indecisioni ha vinto questo blu perché alla fine la cerimonia era serale e quindi ho seguito questi vieni erano a petrella e ho indossato l'abito blu Ciao Marco! Ciao! Ma è bello! Grazie! Speriamo di arrivare puntuali e non come al mio solito in ritardo Marco quando sei in ritardo entra in modalità NERVUS! chi fratelli dello sposo Sì, sì, sì. Ho preso il bouquet Vabbè, comunque io ieri ho preso il bouquet Quindi, prisa Eccoci, siamo arrivati al Farb Girl Cafe Scramble Eggs, Berry Pancakes, Baccia d'Ess In Black Latte, la nuova tendenza, Marco è veramente super cool Felicissimo E poi ho la rosa latte Guardate quel curino, che curino Allora, posso prendere casa qui? Allora, sono Ciao! 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 Grazie per la visione!